A differenza di quello che si dice in Italia, dove nel momento in cui un uomo ha un'iniziativa che non va bene e quindi fallisce, viene definito un fallito. L'assurdo in base al quale un'iniziativa fallita fa sì che i terzi attribuiscano al soggetto che ha fatto l'iniziativa il termine di fallito, l'assunzione da parte della persona del termine fallito in conseguenza di un'iniziativa che non è andata bene. Un'idiozia totale. In America non esiste questa cosa. In America se tu hai avuto la fortuna di partecipare a qualcosa che non è andato bene, sei uno che non è un fallito. Sei uno che ha un bagaglio di esperienza superiore e quindi sei uno che va ascoltato di più. Ci sono delle aziende, anche se qui non siamo in un ambito aziendale, però la mia vocazione imprenditoriale è forte, non posso fare a meno di dirtelo. Ci sono delle aziende che scelgono i dirigenti solo se hanno avuto dei fallimenti. Cioè in Italia a volte si fanno dei gesti tipo questo, di portare le robe scaramantiche verso chi ha avuto un fallimento e invece in America lo si cerca, è incredibile. Comunque io ho avuto la fortuna e il privilegio di dover attingere alla resilienza molte volte. Perché a me nella vita è andata molte volte molto bene e attraverso il sogno, attraverso il coraggio, attraverso la tenacia, attraverso un po' di incoscienza. Però ho anche avuto delle volte dove non mi è andato bene e quelle volte lì sono le volte nelle quali io ho imparato molto di più di quanto io non abbia imparato dalle cose che mi sono andate bene. Essere resilienti ti dà sostanzialmente la capacità di poter fare qualunque cosa. Perché quando tu diventi inattaccabile, perché qualunque cosa ti possa succedere, il tuo animo reagirà in modo tale da assorbire questo colpo, elaborarlo e trasformarlo in esperienza positiva, sei invincibile.